Lo hanno trovato sotto gli scogli del molo nord di Giulianova nei pressi del Fanale Rosso. Dopo due giorni di ricerche si chiude così la vicenda di Mohamed, il 14enne marocchino inghiottito da le onde lunedì mattina mentre assieme all'amico Said Coetaneo, anche egli d'origine nordafricane, stava facendo il bagno con un materassino spinto dalla forte corrente troppo lontano dalla riva e poi ribaltatosi. Il punto dove è stato trovato il corpo era stato già abbattuto dalle ricerche ma le condizioni del mare molto agitato nelle ore passate aveva impedito la visione della salma che è riemersa in mattinata trascinata dalle correnti. Nelle ricerche compiute anche di notte sono state impiegate motovedette della Capitaneria di Porto assieme a Guardia di Finanza, sommozzatori e un elicottero dei Vigili del Fuoco, oltre al personale dei soccorsi speciali SMTPS Omsa della Croce Rossa con moto d'acqua e gommoni. Era stato Said lunedì attorno alle 12.30 a lanciare l'allarme dopo essere riuscito a raggiungere a nuoto la riva avvisando il bagnino. I soccorsi però sarebbero stati attivati soltanto due ore dopo e anche su questo sta indagando la procura di Teramo. Mohamed, studente di scuola media, viveva da qualche anno con la madre a Teramo. Assieme all'amico aveva raggiunto Giulianova lunedì per trascorrere l'ultima giornata al mare prima della partenza per il Marocco.